Quando facciamo dei passi avanti nel ripristino di una foresta, prendiamo parte in qualcosa di molto più grande. Stiamo creando un mondo migliore per la nostra salute e per quella delle generazioni future. Ripiantando le nostre foreste e gestendole in modo sostenibile, creiamo spazi nuovi dove le piante e gli animali possono prosperare. Promuoviamo attività economiche che creano lavoro e migliorano la vita. Così agiamo concretamente sul cambiamento climatico. Miglioriamo la qualità dell'aria che respiriamo, del cibo che mangiamo e dell'acqua che beviamo. Creiamo un ambiente sano nel quale far crescere i nostri figli. Non è mai troppo tardi per agire. Ripristiniamo le nostre foreste e creiamo un futuro migliore. Sous-titrage Société Radio-Canada Grazie.